Uno scontro tra due autobus con decine di feriti, questa la maxi emergenza simulata nell'area in cui ci troviamo in questo momento in Viale Duccio da Buoninsegna ad Arezzo. Qui sono affluiti i mezzi volontari, i medici della macchina dell'emergenza toscana per esercitarsi. È stato proprio programmato per simulare un maxi evento, stiamo parlando anche di un evento numericamente importante perché stiamo parlando di circa 50 feriti che in questo caso vengono simulati proprio da simulatori che sono appartenenti all'associazione di volontariato. Verrà riattaccato, ve l'ho già messo. Guardi, è già dentro di quel dito, ha capito? L'esercitazione per noi è formazione, il modo di formare medici, infermieri, volontari a un maxi evento è fare le simulazioni, quindi questa è la nostra formazione pura. C'è tutta l'area vasta, abbiamo Pistoia, Empoli, Firenze, Viareggio, Lucca. C'è la risposta locale nostra dell'area vasta, più c'è la colonna mobile della regione toscana, ci sono anche i bambini coinvolti e quindi abbiamo anche il Meyer. Credo sia una delle poche volte che anche il Meyer è coinvolto in una maxi emergenza. L'area pediatrica noi siamo andati a prenderla, stanno arrivando in un anno e c'è solo l'attento là. Ma che cosa si testa in una giornata di questo tipo? Si testa la risposta di un sistema a un evento eccezionale, quindi sia dalla centrale, voi vedete questi qua fuori, ma in centrale ci sono altre 5 o 6 persone che si occupano solamente di coordinare i soccorsi per i tempi, la tempista eccetera. Dopodiché noi faremo un debriefing in cui andiamo a verificare se abbiamo rispettato i tempi, come sono andate le cose, come abbiamo soccorso i cittadini, se abbiamo fatto degli errori o meno. Ci sono anche i bambini coinvolti e quindi ci abbiamo anche il Meyer. Credo sia una delle poche volte che anche il Meyer è coinvolto in una maxi emergenza. Pertanto è una bella giornata di lavoro per noi, di capire se possiamo migliorare ancora i nostri performance, ma soprattutto di riuscire a dare una risposta seria e concreta in un maxi evento. Questo è il nostro modo di lavorare.